Mamma mia, è sporco! Benvenuti amici in questo nuovo video, siamo nella nuova sede del tubo di Beppe come avrete potuto vedere dai video precedenti c'è stato un trasloco abbiamo cambiato sede e abbiamo utilizzato anche questo serie 3 coupé per trasportare un po' di roba per i mobili quindi la macchina sia esternamente ma soprattutto internamente è in uno stato pietoso e grazie ad un'azienda del nord Italia che si chiama Sintoclop Techin che è un'azienda che produce prodotti antiattrito per fare trattamenti per motori ma che adesso sta espandendo anche i suoi prodotti anche nel mondo del car care mi ha spedito tantissimi prodotti per la pulizia della vettura adesso con dei loro prodotti specifici professionali andremo a fare la pulizia interna di questa vettura perché fa veramente pietà prepariamo i prodotti, tiriamo fuori i tappetini, li faccio vedere giusto per capire lo stato di sporcizia che c'è qua dentro dopodiché iniziamo il lavoro insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti quindi prima di utilizzare qualsiasi tipo di prodotto per andare a pulire i pannelli e le superfici della vettura andiamo ad aspirare con l'ausilio di un aspirapolvere tutto lo sporco più grosso che avete visto togliamo i tappetini tenendoli sempre piegati per non far cadere tutta la sporcizia sulla macchetta grazie a tutti allora raga quando andate ad aspirare mi raccomando tutte le insenature della pelle con il beccuccio dell'aspiratore non premete troppo perché se no andate a rigare la pelle stessa ci sarà poi il prodotto apposito che farà il lavoro più in profondità ok? grazie a tutti 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 tolgo la polvere col più grosso facendola cadere giù tanto io dal lato guida devo ancora aspirare a terra un'altra soluzione molto utile molto valida prima di aspirare la mochetta del pavimento della vettura è riuscire a spruzzare dell'aria compressa tramite un compressore con una pistola per togliere tutte le parti dei micropolveri non voglio farlo perché sto girando questo video di sera non voglio svegliarmi avvicinato visto che il mio compressore da 25 litri è abbastanza rumoroso finita quindi tutta l'operazione di aspirazione adesso andiamo a prendere dei prodotti professionali marchiati sintoflon che utilizzeremo per pulire tutto l'interno della vettura adesso per pulire gli interni della vettura utilizzeremo tutta la linea carcare marchiata sintoflon e utilizzeremo nello specifico interior imperial soffio ed essenzia e per finire superfinish 0,1 che è un queen coating il tutto verrà steso con un panno in microfibra dove faccia un pelo sia forte che un pelo lungo man mano che utilizzeremo i prodotti vi spiegherò sia come sono formulati e come si utilizzano iniziamo il lavoro e apriamo il panno in microfibra questo panno a differenza di quelli che trovate normalmente nei supermercati sono tagliati a laser vedete non c'è la bordatura questo serve proprio evitare di generare graffi con il bordo del panno in microfibra ovviamente doble face pelo lungo per parti morbide e pelo corto se dobbiamo andare a pulire il famoso imperiale adesso con interior andiamo a fare tutti i pannelli porta e diamo una passata al cruscotto e a tutti i pannelli sia interni anteriori che posteriori e le cover di sedili che nel mio caso sono in plastica e adesso invece parliamo di interior un prodotto veramente efficace al cento per cento per pulire tutte ripeto tutte le superfici interne della vettura anche se avete dei sedili in pelle viene anche utilizzato addirittura se volete rimuovere delle piccole macchie se avete magari degli interni in alcantara che è veramente un prodotto difficile da pulire e molto 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 delicato è un prodotto che viene fornito con una boccetta da 500 ml ha un gradevolissimo profumo a differenza di altri prodotti detergenti che ci sono in commercio essendo fatto a base di oli naturali lascia un gradevole profumo non dovete per forza arieggiare tutta la vettura perché è veramente naturale ripeto utilizzeremo questo prodotto per pulire tutti gli interni della vettura visto che è uno sporco molto polveroso avendo fatto il trasvoco c'è soltanto polvere non è uno sporco grasso un po per quel tipo di sporco c'è un prodotto che vedremo nei video successivi che vi presenterò sempre di sintoflone che serve proprio a eliminare il grasso invece interior apc car interior cleaner lo utilizzeremo ora per rimuovere tutta la polvere la sporcizza che c'è all'interno della vettura lo utilizzeremo con questo erogatore a spray e con il panno in microfibra iniziamo il lavoro perché qua da pulire c'è un bel po spruzziamo quindi il prodotto con l'erogatore a spray dal lato del pelo corto del panno in microfibra ah che buono e già guarda che bel dressing finale che ti lascia guarda che spettacolo ecco questi qua per esempio sono tutti i segni delle zampate di mia moglie di quando sali in macchina interior devo dire che il profumo è veramente gradevole non unge ha un grado di finitura veramente buono ho provato tantissimi luci da cruscotti che sono a base di silicone e lasciano un unto pazzesco si può utilizzare anche a panno aperto devo dire che ha tolto tutte le macchie spettacolo ci tengo a precisare che quando il prodotto asciuga questo risultato finale davvero la plastica come se fosse nuova spettacolo non lascia il minimo residuo di un to perché non è a base siliconica grande sintoflone adesso vediamo come si comporta anche sulla zona console centrale poi abbiamo un misto fra parti metalliche parti in plastica e parti in pelle allora appena lo passate sembra che lunga in realtà quando evapora il prodotto è roba di neanche 60 secondi lascia un risultato finale veramente eccellente guardate lo passiamo anche il bmw per chi conosce la vettura questa parte in plastica diciamo che è verniciata con una vernice tipo soft touch questi vernici qua tendono a rigarsi facilmente e se utilizzate dei prodotti sbagliati tendono poi a spelarsi questo prodotto che vi ripeto è fatto a base anche di oli naturali non vi crea nessun tipo di problema devo dire risultato eccellente di solito tendono ad ungere io poi sono un rompiballe di natura devo arrivare in tutti gli orifizi della vettura spettacolo anche qua adesso proviamo a togliere la polvere sui sedili in pelle ecco questo è il punto che si riempie spesso di polvere arriviamo anche in profondità e direi che ragazzi ci siamo guardate che spettacolo sui sedili allora appena passato resta leggermente umido tempo che evapora e spariscono tutti i segni e lascia proprio la naturalezza della pelle incredibile anche qua ci tengo a precisare ad evaporazione effettuato del prodotto guardate che spettacolo ecco poi ci sono le classiche pedate sulla battuta che mi è un fastidio cane perché ogni volta che si sale si scende dalla vettura non si riescono mai a sollevare le zampette anche in questo caso quindi panno a microfibra una semplice spruzzata seconda passata e venite a vedere da vicino la naturalezza di questa plastica pulizia approfondita anche nei punti più nascosti dalla vettura e direi che possiamo anche fare il bracciolo e a questo punto già che ci siamo diamo una passata anche a quest'altro pannello guarda fin dove arrivano a mettere i piedini incredibile guarda 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 qua quando salgono e scendono guarda mamma mia boh raga io sono proprio gusto sto veramente facendo tutta la macchina la figata è che con un unico prodotto riuscite a fare veramente tutta la vettura guarda lì che c'è una macchia eccola lì la macchia di ciupa ciupa chissà cosa ha mangiato la piccolina qua dietro vediamo un po' spettacolo spettacolo ragazzi guarda qua lasciando la naturalezza della pelle guardate che qual prodotto ancora leggermente unto sta evaporando quando asciugherà grande sito flon anche per il pannello porta quindi spruzziamo interior sul panno in microfibra lo stendiamo su tutto il pannello qua abbiamo una parte in pelle una parte in plastica passiamo anche sulla maniglia ovviamente raga io ho preso un altro panno mi raccomando che il panno sia sempre pulito quindi magari vi procurate due o tre panni come ho fatto io e fate magari prima le parti più pulite ovvero tutte le parti che stanno in alto all'interno della vettura il cuscotto che può essere sporco di polvere ma non ci avete messo sicuramente la zampata delle scarpe dopodiché fate le parti più sporche questa è un'altra cosa che ci tenevo a dirvelo perché non vorrei che poi nel video sotto qualcuno mi dite ah ma con lo stesso panno stai facendo tutta la macchina no mi ho aperto due o tre ah dimenticavo ad ogni pulizia interna vettura questi panni li dovete lavare in lavatrice dovete potete insomma si possono lavare in lavatrice quindi sono riutilizzabili centinaia e centinaia di volte allora questa parte qua in pelle questa è in plastica questa è ecopelle questa è la bandellina alluminio questa è una cromatura questo soft touch direi che qualsiasi tipo di superficie riesce a pulirla riesce a dargli uno strato finale veramente naturale non unge e lascia veramente un gradevole profumo adesso invece andiamo a pulire un punto delicatissimo della vettura che è esattamente il vetro in plastica del tachimetro e soprattutto dei display di navigatori sapete benissimo che sono delle plastiche molto ma molto ma molto delicate e basta veramente pochissimo per andarle a rigare esiste un prodotto marchiato sito con che è super finish 01 universal è praticamente un quick coating tutte queste parole ingegnose per spiegarvi che semplicemente è un veloce antiattrito protettivo contro l'invecchiamento gli agenti atmosferici aumenta gloss profondità e garantisce un eccezionale effetto seta delle superfici quindi può essere utilizzato sia sulla carrozzeria che sulle plastiche e anche sulle cromature come potete vedere io andremo a lavarla poi faremo un trattamento sul chrome line viene anche utilizzato per come vi dicevo le plastiche dei cruscotti dei navigatori vi faccio vedere come funziona esiste sia nella confezione da 150 ml oppure nella confezione più grossa da 500 ml vedete con l'erogatore potete in questo caso che andremo a pulire il cruscotto spruzzare direttamente il prodotto sul panno in microfibra e andare a trattare la plastica andiamo quindi a spruzzare super finish 01 universal con una spruzzata sul panno in microfibra pulito con il pelo lato corto per andare a stendere il prodotto con il panno poi lato più lungo pelo più lungo andiamo a rimuovere l'eccesso del prodotto guardate il gloss che siamo riusciti ad ottenere con questo prodotto raga è spettacolare questo è uno dei prodotti che sul car detailing mi piace più di tutti perché quello che dà il gloss e quello che dà la profondità la lucentezza alla carrozzeria questo prodotto potete utilizzarlo se non volete lucidare con la rotta orbitale o lucidare a mano se non avete la rotta orbitale tutta la vettura basta spruzzare dopo aver fatto un lavaggio ad hoc della vettura spruzzarlo direttamente su cofano portiere tetto e lucidarvi con il panno in microfibra esattamente nello stesso modo col pelo corto lo andate a stendere girando il panno col pelo più lungo che è proprio morbido andate a coccolare tutta la vettura vi assicuro che vi aumenterà il gloss e la profondità della lucentezza della vettura il risultato sarà veramente di avere un'auto sempre nuova e soprattutto ben conservata perché questi tipi di prodotto fanno sì che la sporcizia soprattutto le piogge acide di adesso che viviamo in un mondo inquinatissimo ogni volta che piove questo prodotto regenera un rivestimento sulla parte superficiale del trasparente della vettura e fa sì che l'acqua e lo sporco scimoli via quindi se voi siete amanti della vettura come me sicuramente non potete fare a meno di Superfinish 01 proviamolo quindi anche sul display del navi basta una semplice spruzzata e andiamo a trattare il display pelo corto per estendere il prodotto pelo lungo per rimuovere l'eccesso e lucidare la superficie guardate che spettacolo a sto punto io ci faccio anche la cromatura del pomero del cambio guarda che roba spettacolo raga e adesso invece raga passiamo alla chicca finale di Synthoflon abbiamo un prodotto che si chiama Imperial questo prodotto è un prodotto delicato che deterge le imperiali delle vetture qualcuno volgarmente lo chiama celino il nome tecnico è imperiale allora esistono due tipi fondamentalmente di imperiale ci sono quelli delle vetture premium che sono quelli più delicati perché per essere più belli esteticamente ed avere questo effetto soft touch molto morbido al tatto non sono nient'altro che dei tessuti in raso, in seta, non so che materiale sia applicato incollato quindi su una superficie morbida per rendere tutta la superficie un po' più bella esteticamente qual è il problema è che dopo un po' di tempo 5 barra 10 anni queste colle tendono a seccare e si genera il distaccamento della parte del tessuto bello rispetto alla gomma piuma passatevi il termine che c'è sotto cosa succede? se voi andate a trattare questo imperiale con dei prodotti aggressivi non fate nient'altro che accelerare l'invecchiamento della colla e quindi il precoce scollamento della parte del tessuto estetico Sintofalon ha creato proprio per questo motivo questo prodotto che si chiama Imperial non a caso si chiama così che è un detergente specifico per l'imperiale dell'auto è un prodotto molto rapido, mi spiegavano nel senso che asciuga molto velocemente questo proprio per non andare ad intaccare tutta la colla che sta sotto il materiale quello pregiato è un prodotto che bisogna agitare prima dell'uso viene nebulizzato su un panno in microfibra e dove c'è la macchia si va ad agire ora io qua macchie sul celino ho detto celino sull'imperiale non ne ho ho semplicemente qualche riga di invecchiamento in questo punto qua e volevo andarlo a trattare allora dobbiamo essere un po' chiari l'imperiale meno lo toccate meglio è ma se utilizzate questo prodotto di Sintoflone potete essere strassicuri che è un prodotto che è stato studiato proprio per gli imperiali proviamolo anche noi allora ragazzi importantissimo utilizziamo il pelo dalla parte del lato corto ok? perché dobbiamo andare a rimuovere una macchia spruzziamo un po' l'imperial ovviamente il panno deve essere pulito ne basta pochissimo sta togliendo tutto il gradino del nero che si forma quando vado a chiudere il tettuccio l'aroma è buono è come quello di interior è vero è un prodotto che non unge ed è un prodotto che asciuga rapidamente ma guarda che spettacolo vedete in questo punto c'era la riga non so se dalla cam si vede adesso va bene è ancora un po' punto ma sta andando via la riga che c'era che si formava quando il tettuccio a cavallo a questa superficie qua io sto rimuovendo questa riga mi è stato consigliato di passare il prodotto a panno aperto e di non insistere con i polpastrilli delle dita quindi spalmate bene per cercare di evitare di formare poi delle macchie dove avete pulito e dove non avete pulito per questo vi ripeto ragazzi l'imperiale è veramente soprattutto se è di colore chiaro se è scuro a chi se ne frega non si vede niente ma colori chiari così questo uomo è un grigio chiarissimo veramente occhio perché andate a trattarlo solo se è necessario adesso raga diamo una spazzolata ai tappetini interni della vettura dopodiché li rimettiamo dentro e vi faccio vedere l'ultimo prodotto che secondo me è proprio la chicca finale allora raga adesso andiamo a pulire i tappetini in gomma come avete potuto notare all'inizio del video io i tappetini di gomma li metto sopra quelli in moquette quindi li uso a protezione di quelli in moquette adesso sempre con interior spruzzando direttamente i suoi tappetini andiamo a dargli una pulita e li rifiliamo dentro la vettura passo anche un panno in microfibra spruzzato di interior sulla moquette della vettura del pavimento della vettura perché mi piace veramente l'aroma delicatamente spruzzo interior sulla moquette e col panno lato corto spalmo velocemente sulla moquette quindi come potete vedere è un prodotto che può essere utilizzato veramente su tutte le superfici andiamo anche a pulire spruzzando direttamente sul pedale dell'acceleratore e sul piede di riposo da questo lato qua il discorso di prima vedete che il panno in microfibra adesso è sporchissimo è proprio in questo caso che vado a fare le ultime operazioni di rifinitura guardate vi faccio vedere come lavora interior su pezzi diciamo di plastica dove ci appoggiamo veramente direttamente sopra i piedi vedete adesso è in fase di asciugatura si asciugando fa ritornare il colore naturale delle plastiche veramente fantastico mi piace tantissimo e mi piace soprattutto l'aroma guardate che bello che è il battitacco originale della vettura qua ci sono ancora delle macchie perché aveva piovuto spettacolo raga spettacolo adesso vi faccio vedere un'altra chicca sposiziamo l'interno direttamente sul tappetino in gomma perché sono convinto che riuscirà a farlo tornare nel colore originale incredibile ragazzi inseriamo in vettura inseriamo in vettura e adesso raga devo presentarvi la chicca finale soffio di essenzia questo è un purificatore del tutto naturale a tossico a base di argento l'argento è un prodotto che in natura è un antibatterico anche qua troviamo degli oli essenziali 100% bio questo prodotto lo dovete utilizzare a portiere chiuse accendere il condizionatore accendere il ricircolo d'aria interno e spruzzare con questo erogatore il prodotto nella parte inferiore delle bocchette in modo tale che con il ricircolo interno si tiri dentro il prodotto e va a disinfettare e a profumare tutto l'interno dell'abitacolo non dovete per forza areare l'abitacolo quando avete finito di fare il trattamento ne bastano pochi spruzzi non dovete andare lì a spruzzare un quintale di prodotto quindi è riutilizzabile più volte la profumazione non posso farvela sentire tramite il video fidatevi sono un naso fino è veramente spettacolare e niente chiudiamo le porte della vettura accendiamo la vettura accendiamo il ricircolo interno accendiamo il clima e vediamo cosa succede raga inutile dirvi che nell'abitacolo c'è un profumo di nuovo pazzesco allora raga questo video termina qua ovviamente giù in descrizione del video vi lascio il link se volete acquistare tutti i prodotti Sintoflone che avete visto nel video nei prossimi video faremo altri tipi di trattamenti alla vettura faremo un trattamento interno in pelle un lavaggio esterno della vettura poi faremo un trattamento cerchi in lega e passa ruota e dolci in fungo faremo un trattamento di lavaggio motore più trattamento antiattrito marchiato Sintoflone sul Peugeot 206 GT 2016 valvole 137 cavalli questo video termina qui se ti è piaciuto metti un like e noi ci vediamo come ogni martedì sera alle 21.30 sul canale con un nuovo video ciao raga ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.